Un caro saluto da Mario Giuliaci. Parliamo delle nevicate previste per questo fine settimana a seguito dell'arrivo del nucleo di aria siberiana. Ma attenzione, le nevicate saranno però deboli in media con accumuli inferiori a 10 cm. Partiamo da oggi. Venerdì, nella sera arrivano le prime nevicate sul Piemonte, gran parte della Lombardia, Emilia, Romagna, Medio Alta Toscana. Potranno nevicare Torino, Milano, Bologna, Firenze e Perugia. Sabato 13, massima estensione delle nevicate. Saranno interessate una decina di regioni dell'Italia. Nevicherà in Romagna, regioni centrali, tranne le coste della bassa Toscana, le coste laziali. Nevicate anche al sud, tranne Salento, Sicilia e isole maggiori. Nella notte di sabato potranno nevicare a Milano, a Rimini, Firenze nel corso della giornata e nel corso della giornata ancora Ancona, Perugia, Pescara, Viterbo, Termoli e Bari. Domenica 14, nevicate meno diffusi e che interesseranno per le più le regioni del medio adriatico al sud. Nevicate appunto su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e regioni meridionali. E nevicate in particolare su alcune città come Ancona, Pescara, Perugia, Termoli, Bari, Matera e Cosenza.